Per bonus ordinari, prezzi all'allegato I in caso di pompa di calore integrata con caldaie a condensazione, sommano i valori delle pompe di calore e quello delle caldaie. Allora, i prezzi dell'allegato I sono dei prezzi massimi, cioè bisogna guardare come prezzo massimo non per fare il computo metrico. Allora, l'allegato I parla proprio di sistemi ibridi, quindi non è corretto fare caldaie con pompa di calore, ma sistema ibrido con l'asterisco nel caso in cui, eccetera, il solito asterisco, quindi è 1.500 euro a kilowattora termico. Vediamo la nota 9. Si riferisce alla potenza utile nel riscaldamento della pompa di calore, quindi è 1.550 euro a kilowatt termici della pompa di calore per i sistemi ibridi.